good morning anche se direi più buonasera perché sono le 4.20 qui mister master maestro o semplicemente o semplicemente david inch it's january 15 so già la metà di gennaio 2022 and it's a saturday here in naples 60 fahrenheit around 16 celsius and this means that non è quella giornata veramente 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 fredda come questi giorni in questo periodo almeno ci sono dei gradi in più appunto 5-6 sì oltre al fatto che invito sempre a vedere il mio video sul freddo ho fatto qualche giorno fa per capire perché non lo soffre più di tanto grazie a due pratiche che metto in atto da qualche anno metto sempre nella scritta finale in descrizione il link del video per quanto riguarda i video sui pensieri invece sono sempre separati da questo e penso si tratti di alcuni pensieri ho pensato in questi giorni e carico sono divido in due parti questi video sono un po lunghi il primo pensiero il primo video sul pensiero forse lo carico prima del report non lo so e l'altro dopo di questo report ad ogni modo li devo caricare perché sui video ho fatto nei giorni scorsi abbastanza lunghi se avete cinque minuti di tempo sono anche contento se vi interessa soprattutto se riuscite a vederli sono contento se riuscite a vederli qui voglio solo ring quindi valgono come pensieri questi giorni perché sono queste le cose sto pensando quelle di questi due video sui pensieri qui voglio solo ringraziare mister linge per il giorno 1 dei weekend projects e ricambiare la fortuna per i suoi riprogetti anyway as you just see from the window anche da quest'altra inquadratura è la nostra adesso oggi per la settima volta se non erro nel mese we have we have those beautiful and blue azzurro azzurri anzi blue skies and golden very golden golden sunshine and i think all along the way the way ovviamente fino al sopraggiungere la serata c'è tra due ore qui praticamente anche meno forse si quindi nulla da dire in questi casi speriamo si continui con questo trend che anche ieri era così quindi say that is so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi vado a dire and it's green eee eee E finally, from a mythical keyboard Yamada IGX 640 IPG 625 Have a great day in all the people, follow the channel The Reports Sì, un saluto veramente a tutti Allora, sul video sui pensieri mi raccomando, è separato Sono separati da questo Again, have a great day everyone